Siamo nell'81 a.C. Cesare ha 20 anni. Grazie al matrimonio con Cornelia, la figlia di un illustre senatore amico dello zio Mario e alla carica di Flamen di Alice, il giovane è riuscito a scampare alle proscrizioni di Silla. A salvargli la vita non sono stati solo il matrimonio e la carica sacerdotale, ma come vedremo anche l'intervento provvidenziale di qualcun altro. La nostra storia si svolge in una popina, un locale dove si serve da bere soprattutto vino ma anche cibi caldi. Qui troviamo due schiavi in servizio presso la Domus di Aurelia, la madre di Cesare, Sosia, il Pedagogus, e Rufa, la schiava di origine gallica. I due sono in compagnia di un altro schiavo, Sarpedonte, Pedagogus del giovanissimo Marco Porcio Catone Luticense, una figura chiave nella storia degli ultimi tormentati anni della res pubblica. I tre, come tutti gli schiavi, parlano dei loro padroni, in particolare della fortuna toccata a Cesare, salvo dalle proscrizioni di Silla. Sosia e Rufa stanno aspettando Sarpedonte. Tra Sosia e Rufa c'è chiaramente del tenero, dammi i basium, quindi dammi un bacio, perché no? Putabam mea oscula vino dulciora esse. Credevo che i miei baci fossero più dolci del vino, vino dulciora. Ma Rufa non è incline alle effusioni in pubblico. Desine smettila, ecce venit Sarpedon. Ecco arriva Sarpedonte. Perché Sosia e Rufa hanno invitato Sarpedonte alla popina? Hanno un segreto da rivelargli. Vediamo quale. Dicmi Sosia, dimmi Sosia, quid acidit eri sulle domi? Che cosa è successo ieri in casa di Silla? Spectaculum valde ridiculum, uno spettacolo davvero ridicolo, commenta Sosia. Dicitur, si dice, Aureliam matrem et vestales, che la madre Aurelia e le vestali, Iunctis manibus, con le mani giunte, ec verba pronunziavisse, abbiano pronunciato queste parole summa voce, a gran voce. Sulla, parce iuveni, tu misericors, Cesari parce, Sulla. Silla, dice Rufa, ricordando le suppliche di Aurelia e delle vestali. Risparmi al giovane, tu che sei compassionevole. Risparmi a Cesare, o Silla.